Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora andiamo subito avanti con il secondo libro sul Transurfing di Vadin Zeland, Il Fruscio delle Stelle del Mattino, e precisamente oggi parleremo dell'ultimo capitolo intitolato La Rianimazione del Fine. Cosa fare se siete avanzati verso un fine non vostro ma non volete rinunciarvi? Si può raggiungere un fine altrui? Certo che si può. Armandosi della tecnica del Transurfing otterrete un enorme vantaggio rispetto a coloro che non conoscono le regole del gioco nel mondo dei pendoli. Tuttavia per il raggiungimento di un fine altrui occorrerà investire molti più sforzi e di questo dovete essere consapevoli. Nel cammino verso un fine altrui occorre osservare gli stessi principi che regolano il movimento verso il proprio fine. La differenza sta solo nel fatto che questi principi dovranno essere seguiti irreprensibilmente. Ecco tutto quello che si poteva dire sul raggiungimento di un fine altrui. Supponiamo che il fine da voi prescelto non sia il vostro. Volete che vi dia un consiglio se rinunciarvi se o meno? Se è così significa che non siete ancora penetrati in profondità nei principi del Transurfing. In questo libro si offre una carta del luogo e si rivelano le regole del gioco. Ma la decisione la dovete prendere da soli. Se non siete pronti a prendervi la responsabilità per il vostro destino, il Transurfing non vi aiuterà. I suoi metodi funzionano solo nel caso in cui prendiate in mano il timone dell'intenzione. Ora sapete come manovrare il timone, ma aspetta a voi decidere in quale direzione muovervi. Solo i pendoli possono offrire soluzioni pronte. Utilizzando le decisioni altrui, mettete il vostro destino nelle mani degli altri. Se ormai è tardi per rinunciare a un fine altrui, lo potete pienamente raggiungere. Per fare ciò dovete depurarvi massivamente dal desiderio e dall'importanza. Troverete molti ostacoli lunghi il cammino verso un fine altrui, ma la maggior parte di essi è il prodotto della ragione quando lotta contro la corrente delle varianti ed eleva il livello di importanza. Datevi in affitto. Agite in modo distaccato ma consapevole. Non lottate con i problemi e gli ostacoli. Ridimensionate l'importanza e i problemi spariranno da soli. Supponiamo che vi stiate muovendo verso il vostro fine, ma abbiate incontrato sul vostro cammino ostacoli difficili da superare. A che cosa sono dovuti? Ora lo potete facilmente determinare. Analizzate la situazione. Cercate di capire in cosa avete aumentato il livello di importanza. A cosa avete attribuito un significato eccessivamente importante. In quale momento avete cercato di lottare contro la corrente delle varianti. Liberatevi dall'importanza. Datevi in affitto. Affidatevi alla corrente delle varianti e tutto andrà bene. Il vostro fine può non offrirsi anche nel caso in cui stiate procedendo attraverso una porta non vostra. Forse è il caso di guardarsi attorno e sceglierne un'altra. Comunque sia, prima di cambiare porta, sbarazzatevi dell'importanza e osservate che cosa succede. Si può chiudere, sbattendo, anche la vostra porta, se avete fortemente aumentato in qualcosa il livello di importanza. Per esempio, se avete puntato tutto su una carta. In questo caso il raggiungimento del fine avrà un significato enorme. La porta si aprirà nuovamente quando getterete via l'importanza e vi assicurerete delle coperture, delle uscite di riserva. Una porta altrui, che dapprima sembrava così aperta e sgombra, si può chiudere all'improvviso sbattendo. La causa a monte sarà assolutamente razionale, cosicché la ragione non avrà che da togliersi il cappello e allargare le braccia. E chi poteva saperlo? Qui la situazione è esattamente contraria a quella che si crea quando la ragione pensa ai mezzi di realizzazione e non vede le vie reali di raggiungimento del fine, vale a dire le sue porte. Ma il fatto è che se il fine è autentico e voi siete pronti a permettervi di averlo, le vostre porte si apriranno così all'improvviso come si chiudono le porte altrui. Se vi permetterete di avere, al vostro cospetto si apriranno anche le porte altrui. In ogni caso, sia il vostro fine che la vostra porta non sono unici, ce ne possono essere diversi. Per questo motivo non è mai tardi per cercare il proprio nuovo fine, anche se alcuni dei fini precedenti sono già oggettivamente inaccessibili. Potete cercare di raggiungere un fine altrui, avanzare verso una porta che non è la vostra e al contempo cercare il vostro fine e la vostra porta. Non si deve obbligatoriamente abbandonare immediatamente un cammino intrapreso. Il passaggio sulla linea del fine può essere realizzato con armonia. Si può lavorare per un fine altrui e al contempo proiettarsi in testa la diapositiva del proprio fine. Allora l'intenzione esterna, col tempo, vi aprirà delle porte invisibili, cosa che vi permetterà di cambiare attività in modo indolore. Difficilmente vi riuscirà di liberarvi completamente dai pendoli che cercheranno di imporvi le porte altrui. Probabilmente anche prima cercavate di forzare le porte non vostre. Ma anche adesso, pur detenendo il sapere, non siete garantiti da non commettere errori. Ognuno di noi, immancabilmente, continuerà a fare sbagli. Solo che non bisogna abbattersi e rimproverarsi per questo. Alla fin fine troverete la vostra porta. Non commette errori colui che non intraprende nulla. Siete circondati da una gran quantità di persone che vive semplicemente così. Queste persone non si prefiggono alcuno scopo e non leggono libri come questi. Vogliono di più di quello che hanno ma non hanno l'intenzione di agire. Il vantaggio di queste persone è che non commettono errori, ma voi li commetterete senz'altro, quindi permettetevi semplicemente di commetterli. L'autentico successo cresce sempre sulle rovine dei fallimenti. Quando sfondate una porta che non è vostra, vi scontrerete sicuramente con tante difficoltà. Dall'esterno si vede che state superando gli ostacoli e lottando con i problemi. Questo è quello che si vede in superficie. Tuttavia nessuno, nemmeno voi, vede che la vostra anima si sta opponendo in tutti i modi alla costrizione di procedere attraverso una porta che non è la sua. La ragione fa pressione con la sua volontà, dice che bisogna lottare fino in fondo. Ma persino nelle persone volitive, l'anima non è in grado di sopportare a lungo una simile pressione e può finire per crollare. E il dispetto sarà che ciò si manifesterà sotto forma di errore banale e imperdonabile. Quando una persona perde il controllo della situazione, commette errori elementari. Tutti sono sottoposti a questo rischio, persino i forti del mondo. Nel cammino attraverso una porta altrui vi attendono fiaschi simili e sbagli. Tuttavia cercate solo di non commettere errori banali. Dandovi in affitto agite in modo irreprensibile. Il paradosso sta nel fatto che un grande sbaglio si può perdonare, mentre l'errore banale non ve lo perdonerà nessuno. Non tentate di cercare compassione, nemmeno tra i familiari. E se i vostri familiari dipendono in qualche modo da voi, materialmente o socialmente, allora è ancora peggio, dato che non avrete giustificato le loro speranze. Gli accusatori e i manipolatori non si prefiggono alti fini. Per questo motivo non commettono sbagli. Non offrite loro il motivo di accusarvi di errori elementari e imperdonabili. Sappiate agire in modo irreprensibile anche in contesti banali. Se farete così, anche il fallimento nel cammino verso una porta altrui non sarà molto doloroso. Occorre temere in modo particolare i consigli dei propri familiari. Loro infatti vogliono il vostro bene con tutte le loro forze. A volte è terribile guardare come i genitori di buon cuore predeterminano categoricamente il fine dei loro figli fin dall'infanzia. Se andate al vostro fine per la vostra strada e poi subite una sconfitta, non attendetevi nessuna pietà da loro. Urleranno, te l'avevamo detto, e tu non ci ascolti mai. In questi momenti la vostra posizione è assai debole. Siete molto abbattuti per l'insuccesso e i manipolatori che vi circondano, sfruttando questo momento di debolezza, cercheranno di mettervi le mani addosso. Per loro è comodo così. In questo modo essi trovano il sistema per autoaffermarsi e voi siete qui pronti per loro. Una persona che è capitata in una situazione difficile è sempre circondata da consiglieri e manipolatori. Tutti perseguono esclusivamente i loro fini, o crescere i propri occhi, istruendo il buono a nulla o avere la possibilità di manipolarvi o di mettervi semplicemente al vostro posto. Qualsiasi loro parola, rinchiusa in una confezione di sincera partecipazione, tradotta suona così. Ma dove vuoi andare? Credi di essere meglio di noi? Sta seduto buono qui con noi e sta calmo. Vivi come facciamo noi. Noi conosciamo la vita meglio di te. E magari, in un momento di debolezza, vi si insinua pure il dubbio, forse hanno ragione loro e sono io che non capisco niente. Emerge una domanda. Vale la pena ascoltare i consiglieri e i manipolatori. In che cosa hanno ragione? Solo nel fatto che voi avete commesso un errore. Nel tentativo di raggiungere qualcosa, ognuno di noi, in ogni caso, commetterà errori, anche se seguirà i consigli delle persone intelligenti. Ma il vostro fine lo potete trovare solo voi. Nessun altro lo potrà fare per conto vostro. Persino coloro che vi augurano del bene, con tutto il cuore, non possono sbirciare nella vostra anima. Del resto, voi stessi sentite la vostra anima come un fruscio delle stelle del mattino, cioè, praticamente, non la sentite. Non cedete all'influenza altrui. Abbiate fede in voi stessi. Rileggiamo. Amici, rileggiamo questa frase. Non cedete all'influenza altrui. Abbiate fede in voi stessi. Nel processo di ricerca del vostro fine, non ascoltate nessuno, solo il vostro cuore. In ciò bisogna essere fermi e inflessibili, rispetto ai pendoli, e molto attenti alla propria anima. Come vedete, l'unica riserva nel processo di scelta del destino è il fatto che non tutti i fini e non tutte le porte dello spazio delle varianti sono i vostri. Ciò non sta affatto a significare che non li si può scegliere, nessuno ve lo impedisce, ma allora tenetevi pronti ad affrontare i problemi che ne conseguiranno. Siete sicuri che ne avete bisogno? Scegliendo fini e porte non vostri avanzate lungo il cammino della massima resistenza. Tutta la bellezza della libertà di scelta sta nel fatto che i fini e le porte personali appaiono per ognuno meglio di tutte quelle degli altri. Ma al fine di ottenere la libertà di scelta, bisogna liberarsi dall'influenza dei pendoli che impongono fini e porte altrui. Bene amici, siamo arrivati alla conclusione di questo bellissimo libro. Cosa ne pensate? Fatemi sapere. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo video in uscita sul canale. Mi raccomando, ricordatevi che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo per il terzo libro sul Transurfing. A presto. Ciao.